Benji, bentornato a Modena, hai disputato una grande WNL, sei pronto a ripartire per una nuova stagione. Hai avuto anche il premio come miglior schiacciatore della WNL. Sì, sono molto felice di essere qui, spero che sarà un'altra buona settimana per me e per la squadra. Sì, sono felice dopo la WNL, perché credo che questo tournamento è stato molto lungo per tutti i giocatori, ma per me l'ultimo della WNL è stato molto bello, perché ho vinto una medalla con la squadra e ho ricevuto l'autorizzazione individuale. E' come la nuova motivazione per me di lavorare più difficile e di essere un giocatore migliore. Lo scorso anno sei arrivato come una sorpresa, quest'anno sei uno dei giocatori più importanti di Modena Volley. Cambia qualcosa? C'è qualcosa che va cambiare? Sì, cambiare il numero, perché... Matthew giocava molto lungo con questo numero. E per me anche il numero uno è più importante, perché mi ricordo che la mia ultima settimana era davvero buona per me e ho il numero uno sul t-shirt. Ma voglio essere un buon amico, ho un buon cuore, quindi ho voglia di dare questo numero. E ho cambiato il numero per il numero 10 e penso che sia un buon numero, perché è un grande piacere di prendere il numero da Luca Cantagalli. Quest'anno ci sarà Luca Cantagalli, insieme a lui c'è Andrea Gianni. Che allenatore è? Che stagione sarà? Che parla di coach? Che parla della settimana? Che parla di coach? Ho scopato molto buone cose. Penso che sarà una buona settimana. L'ultima settimana è stata bella, con tutti i tutti i giocatori, con tutti i giocatori. ma credo che questo è qualcosa di nuovo. E questo coach è anche una legenda nel volleybole. Era un giocatore molto buono. Quindi in Italia è un personaggio molto importante. Per me è un grande piacere essere in questo team, con questo coach. E spero che possiamo vincere molte trofei questa season. L'ultimo anno ero una sorpresa. L'ultimo anno ero un giocatore del volleybole. Qual è questo tipo di cambiamento? Il cambiamento? Penso che... Sono molto orgoglioso che ho fatto un buon lavoro l'ultima season. E ora la mia situazione è un po' differente. Ma ogni anno devo combattere per la posizione nella scuola. Per me è lo stesso come l'ultima season. Qualcuno può dire che questa season è un po' più facile per te. Perché tu hai giocato l'ultima season. Quindi questo sarà sicuramente sul giocatore. Ma per me voglio essere sincero, abbiamo ancora buoni giocatori nella nostra posizione. e tutti hanno bisogno di combattere per la posizione della scuola. Grazie. Grazie.